Il centrodestra ha presentato la lista dei suoi candidati al rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso in programma il prossimo 10 marzo. Dieci nomi in rigoroso ordine alfabetico in rappresentanza degli amministratori comunali di centrodestra dei comuni della provincia maggiore. Sono Del Borrello Fiorenza, Del Gesso Angelo, Diorio Gianni, Fraraccio Bruno, Fratangelo Enrico, Nicodemo Angelica, Pascale Alessandro, Petrarca Antonio Bartolomeo, Pollace Anna e Valente Simona. E anche il centrosinistra ha presentato la lista dei suoi candidati al rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso. Nove nomi, uno in meno degli avversari in rappresentanza degli amministratori comunali di centrosinistra dei comuni della provincia di Campobasso. Sono Tommasone Antonio, Scurti Oscar Daniele, Mancini Antonella, D'Alessandro Evelina, Vinci Guerra Antonio, Ponte Pellegrino Nino, Massari Nunzia, Ricci Franca, Ferrara, Lea. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 del 10 marzo nel seggio unico della Sala della Costituzione della provincia. Possono essere retti alla carica di consigliere provinciale, sindaci e consiglieri in carica il giorno delle elezioni nei comuni ricompresi nel territorio della provincia di Campobasso.